La possibilità di ghiacciare la squadra di Sardegna Gioia le coppie devono lavorare come pieno che il piano sono dal nuovo Gebe e Sudama Forza, forza, forza Grande azione, punta per panne solo su Assis del principio parte la ricorsa rigora parte il suo sinistro in giro Aion, aion, aion aion, aion, aion Go, 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 go Goran Go, 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 go Goran Non sono ancora una nuova Poggiù è zero Nasi disposti nei seribari Libari Libari Prima di stare Libari Stari prugari, protto verslo, da gare c'è t'ho, danemi prajte vranovi, vranovi, raccetem da si pudmora. Lihti da kančaj veslo že, po fritskotok ezerom, ti v kopsi vesna peše, di da naplakno beleše. ... Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!